In occasione della celebrazione della liberazione della città dell'Aquila alla fine della Seconda Guerra Mondiale è stato presentato il percorso Memoria Natura, 60 chilometri tra le montagne del comprensorio del Gran Sasso che ripercorre le strade solcate allora dai partigiani durante la Resistenza. Il percorso infatti è stato tracciato con l'aiuto della sezione dell'Aquila dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Questo percorso sarà sempre percorribile, farà parte dei percorsi anche del CAI, quindi è percorribile, ci sono tratti che sono percorribili anche in mountain bike, quindi facilmente percorribili, altri che sono un po' più aspri, ma insomma diciamo che non ci saranno difficoltà. Il percorso è lungo 60 chilometri, quindi va fatto un po' a tappe ed è un percorso che parte appunto dalla Madonna Fore, dell'Aquila e arriva a Unna passando per Colle e Bringioni, Filetto e gli altri paesi della montagna. Il logo del percorso rappresenta dei papaveri, fiori simbolo della Resistenza, inseriti in un paesaggio di montagna al ricordo di quello del Gran Sasso che ha assistito e accolto i partigiani. E poi c'è il ferro spinato, a futura memoria del dolore e dei patimenti della guerra.